Con un comunicato congiunto, CGL Funzione Pubblica, Fit Cisle e Will Trasporti, esprimono preoccupazione per il futuro occupazionale in conservi.co. Dopo il licenziamento di 12 dipendenti di un'azienda in appalto, i sindacati annunciano battaglia. In evasa la richiesta inviata ai soci più rappresentativi di un tavolo congiunto dedicato alla salvaguardia dei posti di lavoro, spiegano i sindacati. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone Tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.